Analizziamo il comportamento della serie RC al variare della frequenza. L'impedenza della serie è data da R-JXC, quindi se scriviamo l'impedenza sotto forma di modulo e fase avremo la radice quadrata di R² più XC al quadrato come modulo e una fase data dall'arco tangente di meno X con C fratto R. Vediamo l'andamento di questo modulo e di questa fase al variare della frequenza F. Quindi rappresentiamo la serie RC e vediamo per quattro valori caratteristici di frequenza l'andamento, i valori assunti dalle componenti. Allora, la reattanza capacitiva dipende dalla frequenza inversamente, quindi a frequenza uguale a zero, la resistenza ovviamente non cambia di valore, avvare l'area della frequenza e mantiene il suo valore R. A frequenza zero la reattanza capacitiva è a valore infinito, quindi si comporta come un circuito aperto avendo la frequenza appunto a denominatore. in generale quindi per una frequenza relativamente piccola abbiamo R ovviamente continua a mantenere il proprio valore e la reattanza capacitiva invece assume un valore molto elevato che così graficamente per suggestione diciamo lo disegniamo come un elemento grande prevalente. a frequenza, viceversa a frequenza sempre più crescente di valore relativamente elevato, la resistenza manterrà il proprio valore mentre la reattanza capacitiva diminuirà di importanza rispetto appunto alla parte resistiva. A frequenza infinita la reattanza capacitiva tende al valore zero, quindi a comportarsi come un cortocircuito. Quindi vediamo che la reattanza capacitiva, l'aumentare della frequenza diminuisce di valore e quindi diminuisce il suo peso nella serie RC. Rappresentiamo il modulo su un diagramma, il modulo dell'impedenza, quindi in ordinate avremo il modulo e in ascisse la frequenza, coordinate il modulo dell'impedenza, che a frequenza zero abbiamo visto che assume il valore infinito per la presenza della reattanza capacitiva infinita. Quindi il grafico arriva diciamo dal valore più infinito, invece all'aumentare della frequenza tende a ridursi alla sola componente resistiva, quindi l'andamento risulta di tipo iperbolico con valore infinito a zero e valore uguale a R a frequenza infinita. Quindi a frequenza bassa prevale la componente capacitiva, a frequenza alta prevale la componente resistiva. Vediamo l'andamento contemporaneamente della fase, quindi la rappresentiamo sempre su un diagramma. Siccome la fase assume valori, l'angolo caratteristico dell'impedenza negativa e disegniamo il quarto quadrante del nostro grafico. La fase parte da un valore di meno 90 per la prevalenza della componente reattiva capacitiva a frequenza bassa, a frequenza zero e proprio uguale a meno 90 e all'aumentare della frequenza diminuisce l'angolo caratteristico dell'impedenza in quanto prevale sempre di più la parte resistiva e quindi la fase, l'angolo caratteristico tende a zero gradi che viene raggiunto quando la frequenza matematicamente raggiunge il valore infinito.